46 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti. Questi i numeri relativi all'approvazione del bilancio consuntivo della Sasi S.p.A. di Lanciano, che chiude il 2019 con un utile consistente di circa un milione di euro, al netto delle imposte sul reddito, e dopo aver effettuato ammortamenti per 3.250.000 euro e accantonamenti di pari importo al Fondo Svalutazione Crediti. I dati salienti sono stati illustrati ai 53 sindaci presenti in assemblea dal presidente Gianfranco Basterebbe. Con l'impegno che anche altri enti sopra noi, dal Parlamento nazionale, alla regione, alla provincia, ci stanno confortando con dei finanziamenti e con delle facilitazioni, noi riteniamo che nell'arco di 3-4 anni queste problematiche possono quasi arrivare a zero. Anche se, torno a ripetere, gli investimenti da fare sono tanti e quindi anche con il vero trasferimento di queste risorse c'è bisogno dei propri tempi tecnici per poter farle gare e poi per realizzare l'opera stessa. Noi ultimamente abbiamo appaltato già sei lavori che vanno alla risoluzione delle problematiche su Vasto e San Salvo che sono i paesi più problematichi da noi gestiti. Abbiamo messo su un progetto che prevede il collegamento di tutte e quattro le sorgenti più importanti, questo per meglio distribuire l'acqua e per fare in modo di avere un'egemonità di tutti i comuni su questa vicenda. L'unico voto contrario è stato quello di Altino con il primo cittadino Vincenzo Muratelli che ha puntato di nuovo l'accento sulla ricorrente mancanza d'acqua nella stagione estiva. L'operaio della Sevel che torna a casa alle 22 potrà sperare in una doccia, ha chiesto Muratelli al presidente Basterebbe, il quale in tutta sincerità non ha potuto dare rassicurazioni né garanzie e in tal senso considerato il persistere di alcuni problemi. Ha stenuti al momento del voto i sindaci dei comuni di Tornareccio, Liscia, Monteodorisio, Rocca Spinalveti e Castiglione Messer Raimondo. Ha lasciato invece l'aula prima del voto il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, anche se nel corso dell'intervento in assemblea aveva manifestato il proprio ringraziamento al CDA Sasi per i recenti investimenti nel territorio vastese, frutto di sinergia con il governo regionale.